A Cosenza il Cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'Ordine Questre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha presieduto una celebrazione liturgica nella Chiesa di San Domenico in occasione dell'investitura di 11 nuovi cavalieri e dame. Essere qui a Cosenza per investire nuovi cavalieri e dame significa, a mio avviso, rendere anche questa città partecipe della missione nobile dell'Ordine Cavaleresco del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che è proiettato in modo particolare nel sostenere, aiutare la Terra Santa, che è la Terra di Gesù. Questo apre anche la partecipazione di Cosenza e dei suoi figli ad un nobile ideale, che quindi va al di là del mare che circonda la Calabria e arriva alla Terra di Gesù, alla Terra Santa. Noi siamo contenti di poter collaborare a quel sogno di Gesù, che era quello di fare della Terra Santa, in particolare di Gerusalemme, un luogo di pace. Prima della cerimonia di investitura, il Cardinale Filoni, accompagnato da una nutrita delegazione, è stato ricevuto dal Sindaco Franz Caruso, un segnale di attenzione molto importante per Cosenza, una città accogliente e plurale, che riesce ad essere punto di riferimento anche di importanti iniziative che riguardano un mondo particolare, come quello dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Credo che sia stata scritta una bella pagina oggi in questo incontro, che si è svolta proprio qui, nel Salone di rappresentanza del Comune di Cosenza, la città capoluogo, che è il motore di una crescita che riguarda non solo il territorio cittadino, ma che riguarda un'area molto più vasta, nella quale i Cavalieri del Santo Sepolcro sono presenti e vogliono continuare a dare il loro contributo perché la società migliore, perché le città crescano, perché si creino sempre di più momenti di sinergia anche tra istituzioni diverse, quella appunto quella laico-religiosa dei Cavalieri del Santo Sepolcro e l'istituzione municipale. Grazie. 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 Grazie.